Chi deve presentare il progetto del campo al comune? Il progetto deve essere presentato da un tecnico abilitato che sia un geometra, un architetto, un ingegnere incaricato dal cliente stesso. Sottolineiamo il fatto che è molto importante che venga incaricato un tecnico abilitato che si occuperà poi di tutto il progetto dall'inizio alla fine.